I cittadini non eleggeranno più i propri rappresentanti, ma verranno nominati da altri politici nei consigli regionali. Stesso metodo della nomina dei consiglieri e presidenti delle province. Quello che volete mettere in atto è il superamento della democrazia. Sottrarre sovranità popolare ai cittadini, perché i poteri a cui Renzi risponde hanno terrore della democrazia. La variabile del voto popolare nella realizzazione dei loro progetti è una variabile che temono, che va ridimensionata, eliminata. E Renzi ha varato una riforma per raggiungere questo obiettivo. Renzi punta ad ottenere uno sbandierato, presunto risparmio dei costi della politica. In realtà sono irrisori come testimonia la ragioneria generale dello Stato. Spero, ci auguriamo tutti, noi componenti del gruppo della Lega Nord, che i cittadini capiscano cos'è in gioco in questo referendum. Che non aderiscano al modello Renzi-De Luca del voto di scambio. Il diritto di voto non va svenduto a Renzi e a nessuno. Va difeso, perché non ha prezzo. La Lega Nord vota no a questo decreto. Vota no alla fiducia al governo Renzi. Voterà no il 4 dicembre a una riforma che non è nell'interesse dei cittadini, ma è nell'interesse del Palazzo. Noi diciamo no. Grazie. Grazie.